C'è un detto, siamo ciò che mangiamo. Beh, fosse vero io sarei una barretta di cioccolata. Eppure è vero, ciò che mangiamo rivela moltissimo della nostra personalità. Vuoi imparare come capire tutto di una persona? Vuoi anche imparare a conoscerti meglio? Allora siediti comodamente e fai molta attenzione. Ti piacciono i cibi salati? Chi ama i cibi salati è una persona intraprendente. Pronta a cogliere al volo ogni opportunità che la vita offre. Sono dei grandi sognatori e non aspettano passivamente che i loro sogni si realizzino. Sono calmi e amichevoli, ma spesso cedono ai nervi alla frustrazione per piccoli fastidi quotidiani, come gli ingorghi stradali ad esempio. Mangi tutto separatamente. Finisci il piattino con i piselli, poi il piattino col purè, infine quello con il pollo. Insomma, chi divide tutto è ossessionato dai dettagli. Queste persone tendono a riflettere moltissimo su ogni minima azione. Ciò rende queste persone molto abili nell'ottenere il successo e sul lavoro sono molto apprezzate per la loro affidabilità e attenzione. Gli schizzinosi Gli schizzinosi sono quelli che chiedono al cameriere di togliere o aggiungere qualcosa dal piatto, o fanno domande su porzioni e quantità. Sono persone che tendono a non correre rischi. Se ad esempio cercano lavoro, ne sceglieranno uno che conoscono a mena dito. Sono però anche pronti ad imparare cose nuove, e non si vergognano ad ammettere la loro ignoranza su certi argomenti. Chi mangia velocemente Se ripulisci tutto il piatto in 5 minuti, allora vuol dire che tendi al multitasking. Vuol dire anche che sei una persona ambiziosa, e probabilmente molto competitiva. Insomma, si tratta di persone di solito molto impegnate. Sono talmente prese dalle cose da fare che fanno liste quotidiane, ma spesso si scordano di dedicare anche un po' di tempo a se stessi, agli amici o alla famiglia. Chi mangia lentamente Si tratta di persone per cui non c'è motivo di avere fretta. Non amano quando le altre persone dicono loro che cosa fare. Si tratta di persone difficili da manipolare, perché fanno solo e soltanto ciò che ritengono giusto. A volte però, questo può essere visto come egoismo. Chi tende a gustarsi lentamente ogni boccone di cibo è una persona che si gode la vita, e sa apprezzare le piccole cose quotidiane. Chi sceglie piatti originali Se tendi a ordinare dal menù la portata più ricercata e sperimentale, allora hai una personalità avventurosa. Queste persone non possono mai stare fermi nella vita. Devono sempre provare cose nuove ed eccitanti. Sono persone di ottima compagnia, e generalmente molto coraggiose. A volte però si lasciano trasportare troppo, e trascinano con sé anche persone a cui non piace tanto uscire dalla propria comfort zone. Chi mastica rumorosamente Di solito questa abitudine è considerata molto fastidiosa, diciamolo. Ma chi mastica rumorosamente è fatto così? Non si preoccupa troppo di ciò che pensano gli altri. Sono spiriti liberi che tendono ad essere molto socievoli ed estroversi. Questo li fa essere persone rispettate, e anche un po' invidiate per questa attitudine rilassata verso ogni guaio della vita. Ma spesso la loro personalità viene guardata anche con un po' di perplessità. Chi non condivide il cibo Quante volte in compagnia si assaggia senza pensare dal piatto di chi ci sta vicino? Ma c'è chi non ama affatto condividere. Un'attitudine vista come avide ed egoista. Ma in realtà si tratta solo di persone che tengono in grande considerazione la loro indipendenza. Chi ruba dal piatto altrui L'altra faccia della medaglia c'è chi non riesce a controllarsi dallo stuzzicare dal piano altrui. Ma non si tratta di maleducazione. Si tratta anzi di affetto. Per queste persone condividere è segno di fiducia. A volte però possono diventare possessive molto esigenti. Ed è difficile accontentarle o dar loro ciò che desiderano. Chi ama i sapori amari Un bel espresso senza zucchero, cioccolato fondente nero, radicchio è tutto ciò che si aggira nello spettro dei sapori forti e amari. Quasi un comportamento antisociale per molti. Si tratta piuttosto di persone impulsive, che non pensano alle conseguenze delle proprie azioni. Sono persone che amano il controllo, anche sugli affetti a loro più cari. Certo è anche vero che il cioccolato fondente nero è semplicemente buonissimo. Chi ama i sapori dolci Se hai un debole per i dolci, sei una persona solare ed altruista. Avere amici del genere è una vera fortuna. Sono persone che resteranno al tuo fianco in ogni difficoltà. Però attenzione, sono anche molto vulnerabili. Allora per curiosità, tu in che categoria rientri? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Hai una vera passione per il gelato Se sul tuo gelato non manca mai la vaniglia, sei una persona sensibile e un po' impulsiva. A guidarti sono le emozioni del momento. Se invece ami di più la cioccolata, hai la tendenza, diciamo, al dramma e a prendere tutto sul personale. Se invece preferisci la fragola, ti piace passare il tempo per conto tuo. Chi invece al gelato preferisce un bel sorbetto, ha in realtà una visione pessimista della vita, in contrasto con i colori allegri del dessert. Chi mangia tanta frutta e verdura Chi si nutre soprattutto di verdure ha un carattere molto empatico. Sono quelli che piangono sempre davanti a una scena triste in un film. Sono persone pronte a sacrificarsi per il bene degli altri. Al tempo stesso sono molto attenti a tenersi in forma e in salute. Di solito, infatti, non hanno praticamente vizi. Chi ama la carne Chi non rinuncia mai a una bella bistecca ha qualche problema nel comunicare. Trovano difficile aprirsi e confidarsi con gli altri. Anche di fronte ad atteggiamenti amichevoli tendono a chiudersi in se stessi e restare distanti e diffidenti. Ma è soltanto una maschera. Sono persone di cui bisogna guadagnarsi la fiducia, ma si riveleranno anche amici fidati e sensibili. Chi ama mangiare con un piatto unico Combinare tutto nello stesso piatto o farsi il famoso piatto tris indica una personalità socievole ed estroversa. Sul posto di lavoro sono quelli che si prendono più responsabilità. Sono grandi lavoratori, ma trovano sempre anche il tempo di coltivare relazioni e affetti molto profondi. Ma a volte, la loro spinta ad avere tutto dalla vita può causare un forte stress emotivo. Chi taglia in piccoli pezzi il cibo Se ti riconosci in questa categoria, allora hai grandi capacità organizzative. Si tratta di persone che pensano sempre al futuro in ogni minimo dettaglio. Sono coloro che lavorano più duramente per raggiungere i propri obiettivi e fare carriera. Pianificano tutto, anche nelle relazioni affettive e personali. Questo li porta spesso a trascurare di godersi il presente, visto che pensano sempre e soltanto al futuro. Chi ama i sapori aspri Questa è una personalità più complessa, un po' indefinibile, perché il carattere di queste persone cambia a seconda del momento. Se ad esempio ti piacciono olive e limoni o altri sapori acri, forse ogni tanto soffri di ansia. Quando si è stressati, infatti, le nostre papille gustative perdono sensibilità. E quindi siamo più portati a gustare sapori aspri e forti. Chi ama i sapori piccanti Non c'è niente di insipido in te. Sei una persona che cerca sempre il brivido. Paracadutismo o bungee jumping per te sono un passatempo del tutto normale. Per una personalità come la tua, la parola paura non esiste. Trovi noiosa la stabilità e cerchi sempre nuove sfide nella vita. E per finire ti lascio con questa perla di saggezza. Qualunque cosa mangi è meglio mangiare che essere mangiati. Ok, non è granché come perla di saggezza. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta qui con noi su Il Lato Positivo.